Nella giornata di ieri Rubino reagisce a Gischianto che accusa uno streamer di buttarsi Vuoi chi pensati sia lo streamer? Fatemelo sapere nei commenti Noi ci vediamo nel prossimo video, linea lo studio A me non me ne fottono cazzo in issue A me, perché a me, io penso che le persone che ti seguono devi essere sempre grato Perché ti danno da mangiare, ti danno a campare, ti danno lavoro, questo è quello E cioè, qui ragazzi ne abbiamo parlato sempre Comunque, se una persona è forte nei social o tutto quanto È sempre grazie a voi, siete voi che fate diventare numero uno la gente È sempre grazie esclusivamente a voi E qui c'è ragione Gennaro, tocca essere grati Perché se uno fa sto lavoro e gli piace fa sto lavoro E guadagna da sto lavoro è sempre grazie a voi Bravo Gennaro, vedi, il maestro Il matrimonio col maestro Scusate ragazzi Eh, non ho abituato a tenere in mano il microfono Vabbè Stanno là Non se ne fottono più E' uno schifo questo, è uno schifo Quando vado alle fiere Sto tutti i giorni alzato A fare le foto con voi Tutti le faccio, tutte Eppure io tutte le faccio Tutte le faccio E l'avete visto al comico nel live E così sarà anche al Games Week E' comico, sono entrato davanti con la fila come tutti Me l'hanno fatto saltare perché stavo a fare un casino Però io stavo a fare la fila come tutti Non mi hanno dato neanche il pass Quattro giorni lì Neanche il pass Vedi cazzo senza pass No, mi vuol dire a sto pass Allora, ti posso dire la verità C'è stanno certi streamer E certe persone che comunque Eeeh Regà Allora, c'è stanno certi che si bottano E si vede Ok? Se parliamo di botting Ma poi lo notate anche voi Non ve lo devo dire io C'è stanno certi invece Che non ne fotte un cazzo Del De No, ne fotte un cazzo Però molti se la tirano E' una cosa de merda Una cosa de merda Regà, è così Purtroppo Poi certi se la tirano Perché Allora, alle volte Alcuno dice Io me la tiro perché Me lo posso permettere Ma vattene Affanculo Io poi Lo sapete come so io Cioè sono molto shawl Tu che pensi Che Eh no, scusate Che me botto fratello Che me bottavo Che stavo così Eeeh Te che ne pensi Della gente Che comunque Influencer che sa Tirano Lo so, dimmi te Non lo so Dipende chi è Cioè io vedo veramente Certi topi In giro sui social Certi topi? Sì Come certi topi Sono solo ratte Neanche salutarli Che quei lesi dei mod Ti timoutano O bannano direttamente In molti canali grossi C'è tutto questo E personalmente Lo ritengo Uno schifo in mano Ah, vedete Ho visto gente venire Timeoutata Per aver chiesto Cosa fai stasera? Mamma mia Ripigliatevi Mod frustrati A chi fa così Auguro il fallimento Entro domani Inutili Tu sei meglio Rispetto a tutti Sti pupazzi Che vedono i loro Spect solo come Banconotte Ecco Zio Simo Vedete Vedete Però intanto Seguono gli altri E a me Mi reputa un uomo e merda Ma come Che lo reputa un uomo e merda? Ma chi ha detto a sta cosa? Qui dice che Praticamente Lui lo reputa un uomo e merda L'altro Seguono gli altri E lui lo reputa un uomo e merda Non è vero tesoro È così bella la sua pelata È bello come il sole tesoro Quindi Gennarone Porca miseria Ma tu sei una brava persona Te vanno tutti bene Ma chi te reputa? Poi è normale Ci stanno alti e bassi Eh Raga Pure io Ho avuto alti Picchi Adesso Va un po' a meno Però uno comunque Comunque Provo sempre A fare più cose Infatti il 4 Partirà Il nuovo format Di calciatori Ah Non lo devo dire Vabbè Partire il formato Di calciatori Io spero Regà Tutto il cuore Mi scoppi Perché ci sto lavorando A st'inverno Perché poi Lo Lo sto mettere pure Su youtube Quindi Cioè ci sto lavorando Tanto E speriamo bene Io mi comporto così E sono Che se Che lato Gli altri Che fanno così Più Ha senso Non ha senso Ah sta a parlare Gli spettatori Scesi Non ha senso Allora Uno più Vi tratta Vi tratta Male Più Seguite Una persona Ma si Genna funziona così Guarda Pezzi de merda E vaffanculo Stronzi Funziona così Oppure Gli devi sparare Per fare Sabba Genna Per fucile Gli punti Genna Ma che tu Dio Così Vaffanculo Bello mio A pezzo de merda Vaffanculo Asao Asosci Come cazzo Ti chiami Vaffanculo Cattivo elemento Siamo così ormai Non sembra Capito Spettatori bot Ah io non ho mai usato i bot Mai E mai li userò Vaffanculo Pabllo Maolo Che userò i bot Sarò un emerito fallito Esatto Bravo Dio a questi streamer Di merda Questi streamer Mi lascio un po' andare Questi streamer di merda Che usano i bot Sate vedete Perché usano i bot Perché funziona così Più vedono gente E più la gente entra Funziona così E quindi alcune streamer Per farsi vedere Si bottano Si bottano Merde Siete delle merde Perché c'è gente Che lavora i format E lavora Per andare avanti E per prendere Più spettatori possibili Ma lavora Merde Invece voi vi bottate Falliti del cazzo E lo sapete chi siete Lo sapete Perché lo sapete Perché lo sanno tutti Merde Piccolo sfogo Piccolo sfogo Hai fallito Hai fallito Certo Pezzi di merda Guarda qua Ha chattuto pure con mille persone Io Guardate quanto spammano a me Allora io voglio capire Eh Ma a me pure con 370 Guardate Accenna Guarda Invece c'è gente Con 800 spettatori Mille Che non scrive in cazzo De nessuno 3.000 persone 2.000 3.000 4.000 Hanno una chat Che non spammano come la mia Che non scrivono come la mia Allora c'è qualcosa che non va Allo start della maratona 3.500 persone La chat si buggava La chat si buggava Tutte persone vere 3.500 La chat si buggava La chat si buggava Allora mi dite a me Io 3.500 persone La chat si buggava Adesso perché uno streamer con 10 20.000 persone Non succede questo Ma io ma voi capite quanto sono 20.000 persone O 10.000 Ma io Capite quante cazzo ne sono Ah ma Cioè la chat non si dovrebbe leggere Ah ma sta accusa Qualcuno c'è 10.000 persone Oh Non succede questo Ma voi capite quanto sono 20.000 persone Ah ma sta parlando di chi 10.000 Ma io Capite quante cazzo ne sono Eh lui è Blur Greenberg Cioè la chat non si dovrebbe leggere Cioè Almeno 2.000 persone Scriveranno contemporaneamente Capito Sono tantissime E io l'ho avuto la chat con 10.000 persone reali Vai giù Si bloccava la chat Quando staccai la maratona nel lockdown Arrivai a 10.000 persone in live Vai giù Non si diceva niente Non si capiva nulla Cosa era un cazzo Non sei niente E io immagino a 20.000 persone 20.000 persone Cioè immagino a 10.000 persone che cazzo è successo Ma sta accusando Blur Gischianto Non ho capito Cioè l'unico è Blur Ma chi sta accusando È l'unico che è È Blur Che fa 20.000 persone Oppure parla di Amurant Esatto Beh Ah in generale Cioè io non riuscivo a leggere nessuno Per la prima volta nella vita Non riuscivo a leggere Nada Zero Cioè la chat faceva così Alla fine Io voglio capire una cosa Buonasera maestro Come è possibile Come è possibile che la chat Vado in un canale Di 6 O 20 30 40.000 persone Improvvisamente Secondo me regà Non sta a parlare in generale Secondo me non sta a parlare in generale Secondo me lui Vede proprio una chat in particolare E io ti posso dire una cosa Io so pure di chi parla Secondo me Secondo me io so pure di chi parla Però non lo voglio di perché Non ne sono sicuro Però secondo me lui si vede Uno streamer in particolare E Vabbè E non parla di Blur Non parla di Blur E non parla nemmeno di Grimbaud Ve lo dico Secondo me lui c'ha la sua idea No sta parlando di che è troppo triggerato No frate Secondo me è triggerato Però lui ce l'ha la sua idea No non è fatto di caga sotto Perché magari lo dico Però poi non è quello Capito? Come è Cioè perché lo Non lo so Avete compreso? Avete compreso? Non è che Ovviamente Vedete altri canali Ovviamente voi moderate così Ma a me la manciata non è così È tutto pronto È tutto pronto Grazie Pachanko Grazie Per teci sabbetti Grazie Pachanko È tutto pronto Mi regalavo dieci sabb Pachanko È un amico Bravo Pachanko Bravo Pachanko Meriti le sette Come meriti le sette Vediamo un attimino il maestro che dice A frate A Pachanko A FIFA Se potremmo giocare pure i sabb Grandi Grandi Ritornate umili Che grazie a dove siete partiti E le persone che vi seguono Se non siete lì Ok E ringraziate sempre Che vi seguiranno E vi faranno la sabb Ricordatelo Rimanete umili